Le impressioni sono molto positive, ho portato con me il visore anche a Seul, è bello sapere che si può entrare in banca pur non essendo fisicamente in banca, è la banca che viene con te ovunque, non è la classica chiavetta di tutte le altre banche, perché diciamo che ormai l'internet banking c'è con qualsiasi tipo di banca, però questo è un discorso completamente diverso che ti permette proprio di avere la sensazione di essere in banca e di poter avere un Luciano che è lì per te per rispondere alle tue esigenze, quindi qua c'è molto interessante, per quanto riguarda invece l'app è bello il fatto che si possa personalizzare, la trovo molto giovane, ma più che giovane molto nuova come cosa, un po' come tutte le app, come social network, il fatto che si possa personalizzare non è anche più piacevole l'esperienza.